I Vescovi siano vicini al popolo di Dio per non cadere nelle ideologie, lo ha affermato il Papa stamattina durante la messa a casa Santa Marta, nell'omilia anche l'esortazione di pregare di non essere attaccati ai soldi. Francesco ha ricevuto in sala Clementina i medici chirurghi italiani, nell'occasione ha ribadito che l'eutanasia e il suicidio assistito non sono scelte per la libertà del paziente ma per scartare chi soffre, non assecondate la volontà di morte del malato, ha precisato. Compassione, tenerezza e dedizione, le parole chiave del servizio ai poveri secondo il Cardinale De Donatis che ieri nella Basilica di San Giovanni ha preseduto il terzo incontro per il lancio del nuovo anno pastorale, toccanti le testimonianze degli ultimi della città, storie di rinascita e di speranza grazie al supporto delle associazioni, stasera in primo piano le famiglie. I Vescovi sono chiamati a quattro forme di vicinanza, lo ricorda stamani Papa Francesco nell'omelia della messa a casa Santa Marta. I Vescovi siano vicini a Dio con la preghiera, esorta il Papa ai loro sacerdoti che sono i primi collaboratori vicini fra loro e infine al popolo di Dio. La lettera incomincia Paolo dicendo a Timoteo di non dimenticarsi della sua mamma e della sua nonna, cioè non dimenticarsi da dove sei uscito, da dove il Signore ti ha tolto, non dimenticarti del tuo popolo, non dimenticarti delle tue radici. E adesso come Vescovo e come Sacerdote, sempre vicino al popolo di Dio. Quando un Vescovo si stacca del popolo di Dio, finisce in una ammofera di ideologie che hanno niente da fare col Ministero, non è un ministro, non è un servitore. ha dimenticato il dono gratuito che è stato dato a lui. In conclusione, il Papa invita a pregare per i sacerdoti e per i Vescovi, perché tutti noi sappiamo custodire e non trascurare il dono che ci è stato dato. In Sala Clementina, l'udienza ai membri della Federazione Italiana degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatre. Il Papa ha ribadito la necessità di mettere al centro la persona. È importante che il medico non perda di vista la singolarità di ogni malato, con la sua dignità e la sua fragilità. Un uomo o una donna da accompagnare con coscienza, con intelligenza e cuore, specialmente nelle situazioni più gravi. Questo atteggiamento, ha precisato, vale soprattutto in tema di eutanasia e di suicidio assistito. Si può e si deve respingere la tentazione, indotta anche da mutamenti legislativi, di usare la medicina per assecondare una possibile volontà di morte del malato, fornendo assistenza al suicidio o causandone direttamente la morte con l'eutanasia. Il Papa ha avvertito che in questi casi non è in gioco la libertà delle persone. Si tratta di strade sbrigative di fronte a scelte che non sono, come potrebbero sembrare, espressioni di libertà della persona quando includono lo scarto del malato come possibilità o falsa compassione di fronte alla richiesta di essere aiutati ad anticipare la morte. Poi, la citazione della nuova carta per gli operatori sanitari. Come afferma la nuova carta per gli operatori sanitari, non esiste un diritto a disporre arbitrariamente della propria vita, per cui nessun medico può farsi tutore esecutivo di un diritto inesistente. Il Pontefice in mattinata ha ricevuto anche i membri della rete sanitaria statunitense Somos Community Care, una realtà che offre assistenza a coloro i quali vivono ai margini della società in condizioni di povertà e di disagio. La vostra organizzazione, ha detto, si distingue per l'approccio empatico e di fiducia che riesce a distaurare con i malati e le loro famiglie attraverso la condivisione della loro vita e avvicinandosi alla loro cultura e alla loro lingua, allo scopo di favorire il rapporto umano. Un coinvolgimento lodevole è da incoraggiare, aggiunto soprattutto alla luce delle dinamiche attuali che tendono verso l'individualismo e la mentalità utilitaristica. È la globalizzazione dell'indifferenza di cui il Papa ha parlato spesso in relazione alla cultura dello scarto che domina in molti scenari sociali. Questa vostra solidarietà con i malati, ha affermato Francesco, è un vero tesoro ed è un segno distintivo di cure e assistenza sanitaria autentiche che mettono al centro la persona e i suoi bisogni. Infine, il Papa ha notato che sebbene l'assistenza sanitaria sia riconosciuta come un diritto umano, in molte parti del mondo resta ancora un diritto garantito a pochi e precluso a molti. Spesso, a concluso, l'assistenza è dominata dal tecnicismo che prevale sulla persona, snaturando il senso stesso della cura. Alla Terano ieri sera è il terzo dei quattro incontri per il nuovo anno pastorale. Protagonisti, gli operatori che lavorano al fianco dei poveri e degli ammalati della città di Roma. Un servizio basato sull'ascolto, ribadito il Cardinale De Donatis, ricordando l'insegnamento del Papa. Ogni servizio, oltre alla cura, alla competenza, alla responsabilità con cui deve essere vissuto, esige questo, la dedizione come dono della propria vita. La dedizione. E occorre veramente tanta, tanta, tanta compassione. L'ascolto è questo. Direi, forse all'inizio siamo rimasti un po' disorientati quando Papa Francesco ha cominciato a usare questa parola. Occorre tanta tenerezza. Tanta tenerezza. L'ascolto, avvertito il Cardinale, deve portare necessariamente a vivere la profondità della relazione con l'altro. Ecco, questo è l'atteggiamento che caratterizza l'ascolto di ogni persona chiamata a vivere la dimensione della diaconia, del servizio nelle nostre comunità. Un atteggiamento che porta ha risultati concreti come confermato dalle testimonianze degli ultimi che hanno beneficiato del supporto delle associazioni. Jafal è un ragazzo palestinese siriano di Damasco. Sua madre nel 2013 ha perso la vista durante un bombardamento assieme agli altri due fratelli più piccoli. È arrivato in Italia nel 2016 grazie ai corridoi umanitari gestiti dalla comunità di Sant'Egidio e da altre realtà caritative. Ora io e i miei fratelli andiamo a scuola ho nuovi amici gioco a calcio mi piace molto vivere in Italia ma penso spesso alla Siria a tante persone che soffrono vittime della violenza aspettano la pace. Una storia di speranza e di rinascita come quella di Aurelio che è riuscito a riprendere in mano la sua vita arrivando ad aiutare chi sta peggio di lui. A raccontare questa esperienza è stato Mario un operatore della Caritas. Aurelio insieme al nostro progetto ha pensato di essere socialmente utile anche nei confronti di altre persone in difficoltà. Il mondo delle associazioni ha espresso apprezzamento per l'iniziativa della Diocesi di Roma massiccia la presenza in Basilica nei tavoli di lavoro è stata ribadita la necessità di una maggiore integrazione fra le strutture caritative e il territorio. Secondo gli operatori in città domina ancora la paura dell'altro il rischio e la solitudine. Oggi qui siamo in tanti e adesso ci siamo anche confrontati insieme e capiamo che c'è bisogno di una forza e la forza la troviamo tutti insieme. È bello ritrovarsi tutti insieme in tanti come comunità appunto presente sul territorio di Roma però poi suddividersi in piccoli gruppetti per andare ad analizzare nello specifico nel particolare nel piccolo ogni singola realtà. Vedo che c'è una forte partecipazione un forte bisogno di sentirsi presenti in questa città di Roma che oggi c'è tanto bisogno di portare al di fuori quella che è diciamo la solidarietà. Oggi abbiamo capito che dobbiamo ascoltare di più ascoltare di più gli altri fermarci a parlare e rendere la nostra città un luogo dove si comunica dove si sta insieme. Il lavoro nostro è quello di far interagire il territorio con la nostra struttura lavoreremo soprattutto su questo versante. Il rischio è quello che nella solitudine tanti perdano la vita perché noi abbiamo parlato di perdita di speranza ma ricordiamoci che lo scorso inverno ben 15 persone senza dimora hanno perso la vita. Noi abbiamo delle persone che vengono il pomeriggio a prendere il tè persone anziane della stessa età dei nostri ospiti. Però poi è stato bello ascoltare che in ciascuno di loro lo spirito soffiava in maniera particolare quindi sono stati anche un po' creativi nel testimoniare Gesù ai poveri che poi andavano ad incontrare. Bisogna conoscere bisogna frequentarsi bisogna che le persone si parlino se continuiamo a dar retta ai tromboni rimaniamo ognuno nel nostro posto e non riusciamo più a integrarci. Però lo straniero continua a fare paura? Penso che continua a fare paura se non ci si ferma e se non ci si conosce. I cristiani in Siria si sentono più che mai sostenuti. Un'iniziativa speciale ha avuto luogo durante la festa dell'Addolorata. Nelle parrocchie come la cattedrale di Nostra Signora della Pace di Oms sono stati donati 6.000 rosari benedetti da Papa Francesco insieme a una copia del Nuovo Testamento in Arabo ed una croce realizzata con legno d'olivo della Terra Santa. I rosari sono stati donati dalle famiglie di persone uccise o rapite durante la guerra. Più di 480 parrocchie in Siria si sono riunite per pregare specialmente per loro. Questa donna per esempio ha detto di essere venuta a prendere uno dei rosari per suo nipote che sta lottando contro il trauma del rapimento. Da allora lascia la casa solo quando è strettamente necessaria. vorrei un rosario per lui perché lo protegga lo faccia sentire meglio e lo faccia uscire da questa situazione. Aiuto la Chiesa che soffre stima che più di 2000 famiglie cristiane abbiano perso uno o più membri durante la guerra. Altre 800 vivono nell'angoscia di avere una persona cara in mano ai rapitori. Per questo motivo è stata lanciata l'iniziativa Consola il mio popolo. I cristiani in Siria hanno un grande bisogno di riconciliazione e perdono. Ecco perché i responsabili delle chiese locali di tutte le chiese cristiane insieme ad Aiuto la Chiesa che soffre hanno promosso un'iniziativa con solo il mio popolo. L'obiettivo di questa iniziativa lanciata da Papa Francesco il 15 agosto a San Pietro è quello di promuovere gesti concreti di sostegno ai cristiani in Siria cattolici e non alla celebrazione nella cattedrale di Homs infatti erano presenti arcivescovi sia cattolici che ortodossi questa è una delle iniziative ma non l'unica Aiuto la Chiesa che soffre opera in Siria dal 2011 ha sviluppato 850 progetti nella regione stanziando per essi 38 milioni di euro potrebbe sembrare molto ma dall'organizzazione assicurano che occorre ancora un lavoro enorme per ricostruire non solo il paese ma anche i cuori dei suoi abitanti i titoli dell'osservatore romano di sabato 21 settembre non esiste un diritto a disporre arbitrariamente della vita nell'udienza ai medici italiani il pontefice chiede di non assecondare le richieste di eutanasia e di suicidio assistito Albano accoglie il papa con la carità a colloquio con il vescovo Marcello Semeraro vetti incrociati nessuna tregua per la Siria il consiglio di sicurezza boccia tutte le risoluzioni per il cessato e il fuoco le credenziali del nuovo ambasciatore di Colombia